E A S D L Z Ok, torpira verso est ora Live solo del S2 Sous-titres par Jérémy Diaz Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In movimento. Ragazzi cerchiamo ad avanzare ancora un po'. Se ci ingaggiano, ingaggiamo anche noi. Avanzo. Avanzo. Movimento. Contatto. 2-9-0. 1-9-0. 3-2-0. 1-9-0. 1-9-0. 1-9-0. Stiamo per la casa in costruzione. Vai avanti tu. Abbiamo un tango possibile qua davanti. Stando a terra. Thunder, thunder, torno indietro. Va avanti Lynch. Seguiamo Lynch. Stai indietro. Occhio Lynch. Facci il giro da qua. Ma devo andare a destra da questo. In caso di coprire i dati che non guarda Lynch, eh. Vai dietro a Lynch, vai. Tango down in casa. Casa pulita. C'è una mina in strada. Sono su Tome, eh? Oh, ci sono due tango davanti, eh. Quello che c'è davanti a noi è stato... Direzione. Tom. Chi c'è con il Tom? Scusi, gli ho preso. Grazie, ma vigno. Prego, prego. È sul tetto. Tango down. Vai, movimento squadra. Contatto, vedo il muretto. E occhio, contatto per... 2,76. Ora sta dietro al gas. Eh, attieni Lynch. Da sotto lo vedo? No. Senza. Vabbè, andiamo a cercarlo, andiamo a cercarlo. Eh, sta qua fuori, qua fuori. Dai. Ha girato dietro al gas. La gas questa che c'è abbiamo qui davanti. Tango down. Ragazzi, state puntate con tutti i lati, eh. Tango sinistra dentro. Aspetta. È dentro il muro. Ehi, tango a terra, eh. Tango a terra dietro al muro. Sì, sì, sì. Occhio qua, e gli lancio una granata. Fuoco in bocca. Bella. Sì. Thunder, vai a controllare la casa in ogni caso. Magari c'è qualche altro contatto. Statica. Giù. È giù Lynch, eh? Sì. Ah no, no, vengo lui, vai tranquillo. Cari il medica. Passiamo, facciamo un giro da dietro. Qua davanti è pericoloso. Oppure per 3,40. Io ho paura che sia da quella. Da dove ti va? Eh... Secondo me è in direzione più o meno della torre. o sulla destra della torre, ma non ne sono sicuro. Da quel lato, Lynch, passiamo al garage. Passiamo dal garage. Muovo. Movimento per 330. A sinistra. Qua a sinistra, sì. Fermi, fermi. Ho visto un uomo dentro in una di queste case, in questo senso. Allora, subito, retta uomo. Lynch, rimaniamo al coperto. Dai un'occhiata. Un'occhiata qua, data dal muro. Libero. C'è una mina in strada. E' libero, Lynch. Possiamo muoverci fino a te, eh? Fermativo. Ok, va bene bene. E' qua a sinistra o no, il bersaglio? Negativo. C'è una mina, possiamo passare dietro al distributore, ci copriamo con il distributore. Vado a dare un'occhiata, volendo. Va bene, dai, prosegui... Aspetta, vai te. Thunder, segui... Collati a Lynch, andati in due. Attenzione, mina al lato sinistro della strada, eh. Ok. Io passi, io passi due. Vado. Quando ci date il goal, ci muoviamo anche noi. Vai. Esos, torna qua. Caggia. Statica a terra, era nel distributore. Avanti. Squadra avanti. Copiato. Regruppa il distributore, allora. Pulita. Ok. Ehi, contatti. Via a destra. Esco. Vai. Foglia. Chi è alla porta dell'hangar? Lynch e Tom. Copiato. Dovresti avere zona libera, eh. Grazie. Grazie. extra. Grazie. Grazie. quando siete pronti e siete sull'incontro il pilota ce l'abbiamo è un po' di riparare ragazzi Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Signor Tom, vadi. Distanza. Distanza 350 metri, 3,70. Un tango down. Ok, fuoco libero. Ehi, sulla collina. Fuoco libero. Hey, I promise that you like me. Cause if you could go downhill. I can't promise that you love me. But you probably will. I can't promise you forever, baby. Cause I just sweat too long. I got a pocket for the quarters now. And I'm your donkey gone. Cause I hate that you need it.